Buonasera e benvenuti. Sono tante le ragioni per cui noi adesso pensiamo che Alberto Moravia sia uno scrittore inattuale. Non è di moda, non appartiene a quella sfera di autori che in questo momento siamo contenti di abbracciare. È un autore che sta fuori dal canone verso il quale noi stiamo andando. Per tante ragioni, alcune di cui parliamo adesso e che mi servono per introdurre questo incontro, che come avete visto si intitola L'insudice amore. Perché dico questo? Perché una delle ragioni per cui Moravia è uno scrittore inattuale è perché è uno scrittore urmaschio. È uno scrittore che nei suoi romanzi, in tutto il suo lavoro, Moravia è uno scrittore iperprolifico, ma insomma in tutto il suo lavoro ha messo al centro non solo le riflessioni del maschio, ma il ragionamento a partire dal maschio. È quella di Moravia, una visione indubbiamente maschio-centrica. E questa è una delle ragioni per cui adesso fatichiamo di più ad averci a che fare, ma è anche una delle ragioni per cui è incredibilmente affascinante occuparsi di lui in questo momento. perché nel posto contrario del mondo a quello occupato dalla cancel culture c'è la curiosità e la curiosità di quello che è anche diverso da quello che ci sembra naturale amare, da quello che ci sembra contemporaneo amare. C'è un'altra ragione per cui Alberto Moravia è uno scrittore inattuale ed è che Alberto Moravia è uno scrittore ferocemente razionale. È uno scrittore che di nuovo in tutte le sue attività ha messo precisamente al centro la razionalità, la ragione contro ogni forma di metafisica. È uno scrittore delle cose contro lo spirito che ha legge intorno alle cose, nella scrittura, nei temi e nel modo in cui scrive. E anche questo non è particolarmente consono al modo in cui noi siamo abituati adesso a guardare alla vita e all'arte. Noi siamo in un tempo in cui vagheggiamo l'irrazionale per tante ragioni. Lo costeggiamo. È un tempo diciamo millenaristico il nostro. È un tempo che fa i conti con quella che chiamiamo la fine del mondo. Comunque insomma sta in una condizione nella quale le magnifiche sorti e progressive che erano, che sono state la bandiera del nostro Novecento sono ammai nate. Invece Moravia stava esattamente lì, stava esattamente in quel punto lì. Era un uomo della civiltà, Moravia, non un uomo della natura. E anche questo fa di lui un autore novecentesco e poco contemporaneo in qualche modo. Ma soprattutto invece c'è una ragione per cui Alberto Moravia è incredibilmente contemporaneo. Ed è questa la ragione per cui ho intitolato questo incontro l'insudice amore. L'insudice amore è un'espressione che usa Umberto Saba per parlare di Agostino, di Moravia. Dice Umberto Saba, che ha molto amato questo libro, che è un libro molto bello, che Moravia è molto bravo, che però compie un errore etico terribile. Cioè insudice all'amore. Ed è indubitabile. È vero, è così. Cioè Moravia si pone nei confronti di una tradizione sentimentale in maniera non solo eccentrica, ma forse addirittura distruttiva rispetto a quello a cui eravamo abituati. Adesso poi entreremo nel dettaglio di questo romanzo, ma immaginate, non so, all'opposto di Agostino, non so, il grande Ghesby, 1926, Fitzgerald, autore molto amato da Moravia. Il quale mette in scena una delle più belle e tragiche commedie romantiche di un amore al contrario dell'insozzato, di un amore pulitissimo, dell'amore al quale appunto si riferisce Umberto Saba. Moravia no. E Moravia insudice all'amore a partire da quelli che lui ritiene essere i suoi due numi tutelari, quelli che stanno sopra tutta la sua narrativa e dunque sopra anche ad Agostino, che sono Sigmund Freud e Karl Marx. E adesso vedremo perché. La storia di Moravia, essere umano, in parte la conoscete. Moravia nasce nel 1907, si dice sempre da una famiglia borghese, di fatto effettivamente viene da una condizione, diciamo così, di privilegio. Se non che a otto anni Alberto Moravia, mentre torna con la sua babysitter da Villa Borghese, cade a terra rovinosamente e per un po' di tempo non si riesce a capire perché, fin quando non gli viene diagnosticata la tubercolosi ossea. Dunque a otto anni Moravia si ammala. La malattia, non lo si dice soltanto così per biografismo o aneddotica, la malattia è centrale nella costruzione della poetica moraviana, l'immobilità. Non soltanto appunto per quello che significa, diciamo dal punto di vista della costruzione del pensiero, ma proprio per quello che significa fisicamente. Cioè Moravia è un bambino che dall'età di otto anni fino ai 15-16 passa gran parte delle sue giornate a letto. E questo che cosa significa? Significa prima di tutto che Moravia non va a scuola. O meglio ci va, prende un diploma ginnasiale, ma insomma non ha un corso di studi tradizionale. E questo, la cosa divertente è che questo lo accomuna a una scrittrice che io amo molto, che si chiama Cristina Campo. Anche lei ha avuto dei problemi fisici che non le hanno permesso di studiare. Ma la cosa interessante è che quando Moravia aveva 12 anni, questa sua malattia corre e ricorre nella sua vita, passa, torna, lui si ammala, guarisce, poi si ammala di nuovo, a un certo punto si ammala di nuovo in maniera molto grave e il medico che lo ha in cura a Roma decide di compiere un'operazione un po' dissennata, cioè gli mette a posto l'anca, gli ingessa la gamba, questa ingessatura viene male, insomma sto ragazzino sta sempre peggio. Fin quando a un certo punto arriva a Roma, angelo risolutore della faccenda, niente poco di meno che Amelia Rosselli. Amelia Rosselli è la zia di Alberto Moravia ed è la madre dei fratelli Rosselli, che sarebbero poi stati uccisi in Francia e sarebbero diventati poi in un secondo tempo i protagonisti del conformista sotto Mentite Spoglie, il romanzo di Moravia. Amelia Rosselli, non la poetessa, ma la madre dei fratelli Rosselli, quindi la madre di Amelia, viene a Roma e dice ragazzi questo ragazzino non può essere curato in questo modo perché così non guarirà mai. Lo portiamo da questo mio amico, che è il primario di chirurgia del Rizzoli di Bologna e vediamo che cosa si può fare. Solo che questo primario di chirurgia del Rizzoli di Bologna si chiama Vittorio Putti ed è lo zio di Cristina Campo. E infatti Cristina Campo è cresciuta dentro il Rizzoli di Bologna. Che cosa significa? Ele Mirzolla lo dice spesso a proposito di Cristina Campo, che cosa significa avere un'educazione non scolastica, non tradizionale? Ele Mirzolla diceva di Cristina Campo che questo aveva fatto di lei un'artista e il genio che sarebbe diventata, cioè non ricevere un'educazione tradizionale. Che significa per lei e per Moravia conoscere benissimo determinate cose e non conoscerne per niente altre. Cioè seguire un itinerario di studi che passa attraverso il desiderio di fatto, attraverso quello che ti piace, attraverso gli scrittori che ami. Moravia dagli otto anni fino ai sedici anni, da quando finalmente guarirà attraverso l'incontro con Vettorio Putti e il Rizzoli di Bologna, che gli toglie sto maledetto gesso e lo cura in maniera diversa, mettendo dei pesi e contrappesi, allontanando le ossa, una faccenda un po' complicata. E poi il lungo periodo in sanatorio che trascorrerà, due anni e mezzo in sanatorio, più i quattro anni in montagna che seguono la dimissione dal sanatorio, in tutti questi anni Moravia legge. Sta a letto da solo e legge un'enorme quantità di libri e legge quello che vuole lui. Non quello che un programma scolastico impone, ma quello che lui sceglie di leggere. E quindi si costruisce il suo pantheon, la sua costellazione di eroi, ai quali farà riferimento poi sempre, in tutta la sua vita. Dopo i quattro anni, dopo i quattro anni trascorsi, durante i quattro anni trascorsi in montagna, dopo la dimissione dal sanatorio, Moravia scrive il suo primo libro, Che sono gli indifferenti. Romanzo che tutti quanti sappiamo, l'aneddotica dice che appunto è stato pubblicato da una casa editrice a pagamento, che il padre avrebbe anticipato i 5 milioni che sarebbero serviti a 5 milioni, forse dico troppo, però insomma è la cifra che serviva a pubblicarlo. 1929 escono gli indifferenti, esce questo romanzo ed è un successo molto importante. Moravia è giovanissimo, è del 1907, e quindi viene immediatamente catapultato nel mondo della notorietà. È appena uscito dalla malattia, è quasi convalescente e già è nel mondo dei grandi scrittori italiani. Viene tradotto, viene tradotto all'estero, a fortuna anche all'estero, eccetera, eccetera. Dopo aver pubblicato Gli indifferenti, Moravia passa un periodo, Moravia è una persona molto inquieta, diciamo così, ripeto, anche in virtù di quello che gli è accaduto nel periodo della prima giovinezza. Decide di andarsene in giro, scrive alcune cose, ma soprattutto parte, viaggia, e quest'idea di viaggiare, di viaggiare, sarà una cosa che accompagna Moravia per tutto il tempo della sua carriera letteraria. Moravia sarà un infaticabile viaggiatore. in questo periodo va prima a Londra, accompagnato da una serie di biglietti di presentazione di Berenson e conosce moltissime persone. Stiamo parlando appunto dei primi anni 30, quindi insomma, immaginate che cosa poteva essere quella Londra lì. Poi va in Cina facendo un viaggio un po' sconsiderato perché nel frattempo ha iniziato a lavorare per i giornali e viene mandato non proprio come inviato, ma insomma per fare dei lunghi reportage dai posti che va a visitare. Siamo intorno agli anni 30, intorno agli anni 30 e anni nei quali come ben sappiamo in Italia succedono delle cose politicamente molto importanti, diciamo che cambiano il destino non solo di Moravia ma di questo paese e lui viaggia va in giro scrive altre cose scrive romanzi che a un certo punto incappano nelle maglie della censura fascista ha dei braccio di ferro col potere va a parlare a un certo punto addirittura con Galeazzo Ciano che per vedere di revocare la censura che era stata posta su uno dei suoi romanzi non ci riesce e gira insomma sono questi sono gli anni tra i 30 e i 40 sono anni complicati nella vita non soltanto di Moravia perché sono anni complicati nella vita di questo paese ma nel 1937 Moravia incontra Elsa Morante incontra Elsa Morante è nota la storia per cui la prima sera in cui si conoscono Elsa consegna a Moravia le chiavi della sua casa dicendo vieni quando vuoi nel 1941 si sposano 1941 quindi già dove vuoi andare vieni di qua nel 1941 è già scoppiata la guerra e loro si sposano e vanno a vivere vivono lunghi periodi dell'anno sull'isola di Capri anche durante l'inverno e sul matrimonio di Elsa e Alberto si è detto e si è scritto tanto dello scontro immediato durature perenne di Elsa con la madre di Alberto Elsa ovviamente se Moravia non è una persona complicata Elsa era diciamo così una persona quasi inavvicinabile dal punto di vista caratteriale si scontra immediatamente con la famiglia Moravia da lei ritenuta ovviamente troppo borghese e non credo e da lì non hanno più avuto nessun rapporto praticamente lei con la famiglia di lui nel 1941 appunto dicevo si spostano a Capri e vivono lì insieme entrambi scrivono Elsa sta scrivendo Menzogne e Sortilegio e credo che potrebbe essere qua e Moravia nell'estate del 1942 in un mese lo racconta lui stesso ad agosto scrive Agostino che si appunto si si intitola Agostino proprio per il fatto che è stato scritto durante il mese di agosto è un romanzo lo racconta e dice una cosa molto bella lo racconta lui stesso con questa bellissima metafora questo è un libro questo è il è la biografia diciamo così biografia intervista fatta da Elkan a Moravia e lui dice Agostino è un romanzo molto fortunato nel senso fortunato per come è stato concepito come vi dicevo Moravia ha subito un immediato successo con gli indifferenti ma nei romanzi successivi si intorcina sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista politico diventa tutto un po' complicato e sembra aver quasi già disatteso la le le attese che avevano poggiato su di lui è un periodo un po' oscuro duro complicato per lui come artista poi appunto nell'agosto del 42 esce questo romanzo in un mese che a mio parere è una delle cose più belle che lui ha scritto e lui dice questa cosa a proposito di Agostino che è molto bella certi libri li ho scritti rapidamente perché la mia testa funziona funzionava con rapidità ma la fretta era assente dalla stesura insomma te lo spiego con un paragone nel primo caso l'ispirazione è un gomitolo bello e fatto che si sgomitola con rapidità e facilità nel secondo un groviglio di fili che devi prima di tutto mettere a posto per poi fare il gomitolo la felicità consiste nell'avere il gomitolo bello e fatto nella testa credo che tiri 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 e viene via tutto tutto quanto facilmente e senza mai fermarsi e questo è Agostino appunto questo questo gomitolo che è già bello e fatto nella testa di Moravia nel momento in cui lui lo scrive lo scrive vi dicevo nell'estate del 42 mentre nel tavolo accanto Elsa Morante scrive menzogne e sortilegio ci sono dei bellissimi racconti della 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 coppia Morante Moravia a Capri che si comportavano diciamo così secondo la tradizione dell'isola come dei piccoli eccentrici e la mattina lavoravano e poi passavano il resto del tempo in giro a camminare per l'isola a prendere il sole e fare bagni Agostino siamo nel 1942 quindi immaginate quanto potesse essere complicato pubblicare un libro in quel periodo soprattutto per un autore come Moravia che insomma era stato diciamo così almeno preso in uggia dalla censura fascista e dopo qualche tentativo nell'impossibilità di contattare Bonpiani che era il suo editore l'editore che poi aveva pubblicato tutti i suoi libri dopo gli indifferenti avendo ripubblicato anche gli indifferenti decide di darlo a un piccolissimo editore romano che si chiama l'edizione di documento di un amico che si chiama Federico Valli detto Ghigo il quale lo pubblica in un'edizione di lusso con abbinate tre litografie di Guttuso Guttuso grande amico di Alberto Moravia esce nel 1944 in 500 copie e il libro ha immediatamente successo e subito dopo la guerra vince una serie di premi ed è diciamo così l'inizio di una stagione felice invece dell'opera moraviana che appunto vi dicevo appunto che interrompe questo periodo questi dieci anni un po' più complicati e solo che dopo l'otto settembre del 43 Moravia e Morante sono tornati a Roma vanno su e giù da Roma partendo da Capri e a un certo punto Moravia ha una soffiata di una persona che gli dice ma tu che stai a fa qua Moravia te le devi andare ti stanno cercando sei sulla lista delle persone da arrestare e quindi Moravia prende perché appunto la famiglia Moravia era in parte ebrea sebbene non praticanti sebbene niente però insomma aveva una linea di discendenza ebraica quindi Moravia prende Elsa Morante e scappano anzi Elsa decide di accompagnare il marito perché Elsa avrebbe serenamente potuto rimanere a Roma lei non era ricercata non era ebrea non aveva nessuna ragione per scappare invece decide di accompagnarlo scappano ed è lì avviene questa famosa leggendaria questi famosi e leggendari nove mesi nella grotta di Fondi dove i due vivono ospitati da questo pastore senza fare niente sostanzialmente aspettando di trovare la possibilità di ritornare a Roma e questo sarà per entrambi un momento fondativo dal punto di vista poetico il periodo dei nove mesi a Fondi sono i nove mesi che poi Moravia ha sempre detto dentro di lui creeranno l'immaginario che gli permetterà di scrivere la ciociara e invece sono per Elsa Morante quello che poi diventerà la storia quindi siamo due libri capitali del novecento italiano che sono stati concepiti e pensati però appunto senza avere neanche niente su cui scrivere e Elsa aveva lasciato a Roma il manoscritto di menzogna e sortilegio e questo era per lei il motivo di più grande angoscia in questi nove mesi perché temeva che andasse perduto l'aveva lasciato al suo amico Bragaglia perché lo custodisse però appunto non c'erano i computer non c'erano le copie quindi lei aveva un'unica copia che era quel manoscritto e che se se l'avesse perso avrebbe dovuto ricominciare da capo il manoscritto grazie al cielo non va perduto e dopo nove mesi loro tornano a Roma e appunto esce Agostino Agostino abbiamo iniziato questo nostro incontro dicendo che ha due soli due riferimenti dichiaratamente da parte dell'autore che sono appunto Sigmund Freud e Karl Marx e Moravia ha spesso detto che Agostino che è senza alcun dubbio un romanzo di formazione è la storia di un ragazzino di 13 anni e che per la prima volta scopre tutta una serie di cose che riguardano la crescita che riguardano diventare adulti per Moravia ha sempre detto che questo romanzo segue due filoni cioè quello della sessualità e quello del denaro Moravia dice una cosa molto bella a proposito della letteratura dice che ogni scrittore ha una porta ha la chiave di una porta che gli permette di accedere al reale e Moravia dice la mia è sempre stata il sesso e per dire che cosa sia dice fa altri esempi e dice Joseph Conrad la sua chiave per accedere al reale era il mare Dostoevsky la sua chiave per accedere al reale era il delitto Proust lo snobismo Balzac il denaro il sesso è per Moravia e a detta a detta sua la chiave che gli ha sempre consentito appunto di aprire la porta che ti dà accesso al reale Agostino è la storia di un bambino di un ragazzino appunto che ha 13 anni e che va in vacanza con la madre vedova a Viareggio Allora questo è molto importante perché qua sta una delle chiavi di quella diciamo interpretazione freudiana della letteratura che Moravia rivendica in qualche modo Viareggio è il luogo della villeggiatura del ragazzino Moravia del bambino Moravia per tanti anni della sua vita e dunque Viareggio è un luogo della memoria per lui e quindi le descrizioni il posto l'avvenire eccetera eccetera però dice Moravia io non sono Agostino non lo sono affatto io non ho come il personaggio di questo romanzo una visione erotica di mia madre il corpo di mia madre non mi ha mai suscitato desiderio non è mai stato conturbante non ha creato come succede in Agostino quell'immagine però dice una cosa che mi è sempre sembrata incredibilmente interessante mi è sempre sembrata addirittura il luogo con esattezza il luogo nel quale si forma la letteratura cioè lui dice Moravia che Freud rispetto a quello che immaginava all'inizio del suo ragionamento sull'inconscio più avanti cambia idea su alcune cose e parla dell'immagine primaria sapete che l'immagine primaria è quella quell'epifania secondo Freud nella vita di un bambino per cui si palesa qualcosa che diventa che poi smacchia emotivamente su tutta la tua esistenza devi farci i conti devi liberarti devi sgomitolarla in qualche modo perché si incista dentro l'inconscio e produce eventualmente il trauma se non attraversata l'immagine primaria tradizionale è quella del ragazzino che apre la porta e trova il papà e la mamma che fanno sesso Moravia però dice una cosa molto interessante dice Freud a un certo punto del suo ragionamento modifica la sua idea dell'immagine primaria e dice l'immagine primaria non è soltanto quella che il bambino vede ma potrebbe essere anche quella che il bambino immagina e questo cambia tutto e questo cambia tutto e questo è il punto in cui nasce la letteratura che sgombra al campo a tutti i ragionamenti su biografia autobiografia autofiction non autofiction c'è un punto c'è una zona grigia che è quella nella quale la realtà e l'immaginazione io e la proiezione dell'io formano questo irco cervo che poi produce la narrazione e questo è quello che accade in Agostino l'immagine primaria che peraltro in questo romanzo sta quasi alla fine in uscita che è la scena nella quale Agostino sente la madre che suona il pianoforte e apre e la trova che si sta e che è abbarbicata in una stranissima posizione baciando questo che sarebbe il suo amante quell'immagine che lo scrittore produce lui non l'ha vista ma l'ha immaginata e averla immaginata è materiale emotivo sufficiente a costruire con questa immaginazione appunto una narrazione Agostino e la madre sono soli a Viareggio e l'incipit di questo romanzo molto celebre ve lo leggo dice proprio così nei primi giorni d'estate Agostino e sua madre uscivano tutte le mattine sul mare in patino la coppia si potrebbe si potrebbe parlare per mesi del concetto di coppia ma nel senso di coppia di due uno e due nella narrativa di Moravia più avanti vi leggerò altri pezzetti di questo romanzo e vi accorgerete come Moravia ha dal punto di vista più prostilistico e narrativo questa ossessione della doppia aggettivazione mette sempre due aggettivi per identificare e per specificare un oggetto cosa questo possa significare ci possiamo sbizzarrire a immaginare che Moravia metta in scena appunto degli opposti in qualche modo di fatto qui la prima cosa che lui mette mette in scena è appunto una coppia ma una coppia formata da una madre molto bella molto giovane e un ragazzino due due nel senso di coppia la coppia che va sulla spiaggia da sola e che appunto fa il bagno insieme e sta separata sta sempre separata dagli altri dagli altri bagnanti dalle altre persone c'è una forma quasi aristocratica tra l'altro nel 1962 esce un film di Bolognini che ho provato a rivedere ma devo dire non ha retto a differenza del romanzo l'ingiuria del tempo è un po' molto goffo da rivedere adesso il romanzo il film che Mauro Bolognini è tratto da Agostino ma proprio ha fatto Bolognini fa una scelta proprio in direzione di questa aristocrazia di questa separazione esposta la vicenda curiosamente a Venezia e ambientando questa storia a Venezia in qualche modo rende ancora più più chiaro che si tratta appunto di di un'eleganza appunto di un distacco di una appunto anche di un'aristocrazia di modi e di persone i due dicevo fanno il bagno insieme stanno sempre insieme sono sempre soli e separati dagli altri e poi a un certo punto succede questo anche questa è una scena molto celebre e ascoltate in che maniera plastica e cinematografica descrive Moravia questo arrivo una mattina la madre vedete che ne parliamo dopo una mattina la madre si trovava sotto l'ombrellone e Agostino seduto sull'arena accanto a lei aspettava che venisse la solita ora della gita in mare tutta un tratto l'ombra di una persona ritta parò il sole davanti a lui levati gli occhi vide un giovane Bruno e adusto che tendeva la mano alla madre avete capito come arriva questa scena lui sta voltato diciamo così di spalle e vede l'ombra questa persona che in piedi fa ombra e lui vede quest'ombra davanti e poi si accorge che c'è una persona sentite che bello questo aggettivo adusto anche qui ve l'ho detto Bruno e adusto adusto significa bruciato abbronzato dunque anche magro ma insomma secco diciamo così seccato dal sole non ci fece caso pensando a una delle solite visite casuali e tiratosi un po' da una parte aspettò che la conversazione fosse finita ma il giovane non sedette come gli era proposto indicando sulla riva il patino bianco col quale era venuto invitò la madre per una passeggiata in mare Agostino era sicuro che la madre avrebbe rifiutato rifiutato ciò fu perciò grande fu la sua sorpresa vedendola subito accettare cominciare senz'altro a radunare la roba i sandali la cuffia la borsa e poi levarsi in piedi allora questo è il momento e tenete a mente questa cosa perché poi più avanti ne riparliamo in cui Agostino viene cacciato dal paradiso finisce l'Eden dell'infanzia finisce questo rapporto privilegiato e assoluto che lui ha con la madre e viene espulso diciamo così espulso dal nido cacciato dal nido la madre inizia a frequentare quest'uomo in maniera un po' svagata un po' casuale cercando di portare con sé il figlio in queste gite per non attirare troppo l'attenzione ma insomma di fatto il giovane Agostino i cui sensi sono completamente allerta si rende immediatamente conto che è successo qualcosa di irreparabile e che questa cosa qui condizionerà non solo il suo rapporto con sua madre ma probabilmente condizionerà tutta quanta la sua esistenza e c'è una scena più avanti che adesso vi leggo che è molto bella perché restituisce tutta quanta la sensualità di questi corpi Elena Loeventan all'inizio quando ci ha presentato ha detto che questo è un romanzo di corpi sentite in che modo il corpo della madre fa agio su quello di Agostino risaliti due sul patino si iniziò il ritorno siamo sul patino insieme a quest'uomo misterioso la madre e Agostino questa volta i remi furono affidati ad Agostino i due sedettero sopra la traversa che congiungeva le due navicelle egli prese a rimare piano nel sole che bruciava domandandosi spesso che senso avessero le voci le rise i movimenti che gli giungevano da dietro le spalle notate come di nuovo esattamente come nell'arrivo di questa persona tutto succede alle spalle di Agostino ogni tanto la madre come ricordandosi della sua presenza tendeva un braccio e gli faceva all'indietro una maldestra carezza sulla nuca oppure lo solleticava sotto la scella domandandogli se fosse stanco no non sono stanco rispondeva Agostino udiva il giovane dire ridendo gli fa bene remare e dava con rabbia un colpo più forte con i remi la madre si appoggiava con la testa al sedile su cui stava Agostino e teneva le gambe lunghe distese questo egli lo sapeva ma non sempre gli sembrava che questo atteggiamento fosse mantenuto a un certo punto anzi ci fu un tramestio e come una breve lotta la madre parve quasi soffocare si levò balbettando qualcosa il patino pencolò da un lato e Agostino ebbe per un momento contro la guancia il ventre della madre che gli parve vasto quanto il cielo e curiosamente pulsante come per una vita che non le appartenesse o comunque sfuggisse al suo controllo torno a sedere la disse stando in piedi a gambe larghe le mani aggrappate alla spalla del figlio se mi promettete di essere buono lo prometto giunse con falsa e giocosa solennità la risposta del giovane goffamente ella si lasciò di nuovo scivolare sulla traversa delle navicelle e in quest'atto sfregò il ventre contro la guancia del figlio rimase ad Agostino sulla pelle quell'umidore del ventre chiuso nel costume fradicio umidore quasi annullato e reso fumante da un calore più forte e pur provandone un vivo senso di torbida ripugnanza per un'ostinazione dolorosa non volle asciugarsi non so se vi rendete conto di che cosa ha scritto Moravia nel 1942 ha scritto una scena quasi pornografica tra questa madre e questo figlio piena di odori di umori di strusciarsi quanto è vivo quanto è vivida l'immagine di questo costume bagnato con questo ventre che si sfrega sulla guancia di Agostino e perché e perché lo fa e perché lo fa con questa intensità lo fa perché deve costruire appunto quell'amore insudiciato deve costruire una 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 pietra di paragone un punto di scandalo un luogo inattraversabile per Agostino adolescente nei confronti della sessualità che cosa accade Agostino la madre porta avanti questa relazione turbida no turbida una relazione con questo bel ragazzo conosciuto sulla spiaggia e poi succede la scena quella famosa che appunto è quella dello schiaffo a un certo punto Agostino sempre più innervosito dalla presenza costante di questa persona comincia a fare un po' lo stronzetto con la madre la prende in giro dice delle cose un po' puntute insomma si risente un po' e la madre a un certo punto si arrabbia da uno schiaffo questo schiaffo è il punto di non ritorno di questa storia Agostino scappa si chiude dentro la cabina del bagno del bagno nel senso dello stabilimento a piangere piange e perché si vergogna e mentre sta chiude dentro questa cabina piangendo arriva il famoso Berto Berto è questo ragazzo di di strada diciamo così che è l'altra parte di questa storia che ha la sua compagnia di ragazzini scafazzati rispetto a come Agostino e che invece lo tira a sé abbiamo iniziato dicendo Marx e Freud quindi Freud è tutta la questione del desiderio nei confronti della madre Marx è tutta la questione di quella che Moravia dice la classe le differenze di classe e che vengono messe in scena in maniera molto precisa in questo romanzo i ragazzi quanto tempo abbiamo e vabbè un altro quarto d'ora questi ragazzi portano Agostino dalla loro parte Agostino è terrorizzato ma contemporaneamente anche elettrizzato dall'idea di conoscere questa compagnia di ragazzi così diversi da lui appunto così scafazzati così capaci di fare cose che lui neanche immagina e se li fa amici con il pacchetto di sigarette della madre lì in questa compagnia di ragazzi che ovviamente conoscono la madre di Agostino l'hanno vista sono tutti un po' eccitati da questa donna giovane molto bella che sta da sola che diciamo eccita il desiderio di tutti quanti loro per cui chiedono si informano fanno e piano piano cominciano a spiegare ad Agostino quello che loro intendono per sesso sostanzialmente mimando spiegando facendo delle cose ognuno di loro mettendo insieme quei pochissimi tasselli che hanno sono tutti ragazzini e cominciano piano piano a spiegare ad Agostino di cosa si sta parlando cioè che cos'è il sesso in quel momento succede quest'altra cosa in sudici amore per cui in una delle gite che Agostino mette in scena con questi suoi nuovi amici c'è questo personaggio un po' ambiguo che è più grande che si chiama Saro che a un certo punto dice ad Agostino accompagnami andiamo a raggiungere i ragazzi con la barca vieni in barca con me e lì succede tutta una faccenda che non vi sto a raccontare con un altro che era il suo protégé di questo Saro che peraltro è un ragazzino di colore Agostino sale e c'è questa scena bellissima sulla barca perché questo Saro gli prende la mano a questo bel ragazzino e insomma si capisce che c'è dell'ambiguità insomma che gli sta facendo sarebbe pronto a molestare Agostino e Agostino si terrorizza e questa scena molto bella però alla fine diventa una scena molto bella perché Saro gli dice dimmi qualcosa parlami e Agostino non sa che cosa dire e allora gli dice dimmi una poesia e quindi mentre lui gli tiene la mano sono solo in barca e Agostino è terrorizzato gli recita una poesia di Carducci però il terrore di Agostino è tale che dice se io mi fermo questo mi fa qualcosa e quindi affannosamente cerca di ricordare tutte le poesie che sa e gliele dice una dietro l'altra e diciamo questo dire poesie è diciamo la sua è il suo scudo è il modo in cui in qualche modo si salva e poi a un certo punto gli dice ho paura portami a riva però in qualche modo la cosa divertente è che lui si è fatto scudo con con la letteratura da questo agguato la storia va avanti loro continuano ci sono altre scene che riguardano la relazione tra la madre e questa persona e a un certo punto succede l'immagine che vi ho anticipato la scena che vi ho anticipato cioè Agostino vede torna a casa c'è la madre che sta suonando il pianoforte questo qui che la sta ascoltando poi Agostino si allontana Agostino sente che sono cambiati i suoni in quella stanza che c'è troppo silenzio sente delle cose e apre la porta e trova e ve la leggo perché è molto divertente perché ogni volta che Agostino trova la madre che fa delle cose bizzarre ci sono sempre questi aggrovigliamenti curiosi di corpi appunto i corpi quello che vide non lo meravigliò molto il giovane stava in piedi e baciava la donna sulla bocca rovesciata indietro sul basso ed esiguo sgabello dal quale d'ogni parte traboccava il suo corpo piegato e la teneva ancora una mano sulla tastiera e con l'altra cingeva il collo al giovane una posizione stranissima nella poca luce si vedeva come il corpo di lei si torcesse indietro il petto palpitante in fuori una gamba ripiegata e l'altra attesa a premere il pedale a contrasto con questa violenta dedizione il giovane pareva conservare la solita disinvoltura e compostezza in piedi girava un braccio sotto la nuca della donna ma si sarebbe detto più per timore di vederla cadere indietro che per violenza di passione l'altro braccio li pendeva lungo il fianco e la mano stringeva tuttora la sigaretta le sue gambe vestite di bianco ben piantate e aperte una di qua e l'altra di là esprimevano uguale padronanza di sé e deliberazione questa è un'altra delle descrizioni del corpo della madre ce ne sono varie dentro il romanzo di incontri con questo corpo della madre conturbante da parte di Agostino Agostino rimane turbato da questa immagine che vede e decide di fare il gesto che lo porta dovrebbe portarlo fuori da questa ossessione cioè decide di rompere il salvadanaio e con quei soldi andare in questa famosa casa che gli scafazzati gli avevano indicato e che era la casa dove si prostituivano delle donne e lui dice io vado c'ha 14 anni vado e pago una donna e esco da questa follia purtroppo ovviamente il suo piano non funziona perché quando arriva nella casa di tolleranza lo guardano e lo rimandano a casa perché è troppo piccolo in cambio uno degli scafazzati più grandi di lui con i soldi di Agostino va con una di queste prostitute e quindi non e questo appunto è un altro degli amori insudiciati a cui fa riferimento Umberto Saba e il romanzo si conclude con Agostino che torna a casa e la mattina dice alla madre me ne voglio andare non voglio più stare qua e e poi gli dice la madre gli dice non voglio più che mi tratti come un bambino non sono un bambino e e poi gli dice questa famosa frase eh tu mi tratti appunto tu mi tratti sempre come un bambino disse a un tratto Agostino non sapeva neppur lui perché la madre rise e gli accarezzò una guancia ebbene d'ora in poi ti tratterò come un uomo va bene così e ora dormi è molto tardi e la si chinò e lo baciò spense il lume Agostino la sentì coricarsi nel letto come un uomo non poté fare a meno di pensare prima di addormentarsi ma non era un uomo e molto tempo infelice sarebbe passato prima che lo fosse e questo tempo infelice appunto è una delle frasi celebri di Morabia del quale si è detto sempre lui racconta di questo tempo infelice che deve passare con la lingua più felice del mondo perché la lingua di Morabia è una lingua della felice appunto limpida cristallina addirittura l'ultima cosa e poi vi lascio che volevo dirvi a proposito di questa storia è che nel 1957 esce un romanzo capitale della storia di questo paese un romanzo che avrebbe vinto il premio strega un romanzo che ancora oggi viene considerato un grande classico ed è l'isola di Arturo di Alsamorante a guardarli adesso a distanza di tanti anni mettere accanto Agostino e l'isola di Arturo per certi versi è un esercizio divertente e racconta secondo me con molta precisione quello da cui siamo partiti all'inizio cioè la ragione per la quale Morabia è uno scrittore inattuale mentre il Samorante è una scrittrice che sta esattamente nell'onda del tempo che stiamo attraversando l'isola di Arturo lo conoscete è un romanzo di formazione è la storia di un ragazzino Arturo che vive su quest'isola e si intitola l'isola di Arturo mentre il romanzo di Morabia si intitola Agostino sono i nomi dei due protagonisti però Elsa scrive l'isola di Arturo e Morabia scrive Agostino qual è la differenza che Morabia sta dentro la testa di Agostino Morabia è appunto in questo senso Agostino è un romanzo tutto a guardare dentro la testa di lui e incredibilmente è scritto in terza persona l'isola di Arturo è un romanzo che guarda da fuori la vicenda è l'isola di Arturo cioè la testa di Arturo il mondo di Arturo il paradiso di Arturo il paradiso ricordate di Arturo è l'esterno il paradiso e l'inferno di Agostino sono Agostino stesso dentro e fuori sono due romanzi di formazione abbiamo detto sono due romanzi di mare il mare in Agostino è molto presente è il mare di Viareggio è un mare diverso però ricorderete che Agostino è stato scritto a Capri che è un'isola Arturo l'isola di Arturo è un romanzo completamente di mare è un romanzo nel quale il mare significa confine proprio il confine ricorderete come finisce l'isola di Arturo finisce con Arturo che parte per la prima volta prende il famoso piroscafo mitologico piroscafo dal quale arrivavano tutte quante le cose all'isola e che lui non aveva mai preso e parte per andare in guerra probabilmente quali sono i temi dell'isola di Arturo Arturo ha un padre che si chiama Vilam Gerace che va e viene dall'isola che lui mitizza che pensa che sia un eroe dei due mondi che è omosessuale e Arturo lo scopre soltanto alla fine un giorno il padre torna sull'isola con una ragazza giovanissima poco più grande di Arturo che si chiama Nunziata Nunziatella e la sua giovane sposa Arturo si innamora della sua matrigna Nunziatella Nunziatella diventa appunto la sua immagine primaria la sua ossessione la sua madre desiderata si scambiano soltanto un bacio loro due non è proprio la madre però come cancella il desiderio di Nunziatella nella sua testa Arturo con Assunta che è una specie di prostituta dell'isola e con la quale lui appunto consuma del sesso rapido che gli serve a togliersi l'immagine della madre Arturo la storia di Arturo dura due anni la storia di Agostino dura un mese e questa è la differenza è una differenza però la cosa appunto e qui chiudo e ritorno a quello che ci dicevamo all'inizio la cosa interessante è che alla fine Moravia e Morante scrivono due romanzi molto diversi anche soltanto per il fatto che Agostino viene considerato addirittura una novella perché è un romanzo molto breve mentre l'isola di Arturo è un romanzo di 200 pagine molto articolato però però anche Elsa insudicia questo amore anche Elsa va a mettere le mani in una maniera spregiudicata su un'idea tradizionale dell'amore su un'idea romantica dell'amore e mette dentro tantissimi inciampi sentimentali nella vita di Arturo così tanti da sembrare appunto ripeto quasi speculari a quelli che mette in scena Moravia però e questa è la differenza più importante e questa è veramente la differenza cruciale che c'è tra lo scrittore Moravia e la scrittrice Morante Elsa è una scrittrice creaturale è una scrittrice dell'invisibile è una scrittrice della natura è una scrittrice degli animali è una scrittrice dell'innocenza è una scrittrice che mette in scena quest'isola che è fino a quando non verrà sciupata è l'isola del paradiso e Moravia è esattamente il contrario Moravia è un uomo che guarda l'abbiamo detto all'inizio con razionalità a alla natura complicata dell'essere umano alla natura adulta dell'essere umano Moravia è uno scrittore che racconta gli adulti anche quando racconta i fanciulli racconta appunto la l'abbiamo detto il buco il buco che sta dentro l'essere umano il buco dell'inconscio l'orrore del fare i conti con i propri istinti bestiali Elsa al contrario racconta l'idea di una felicità perduta che c'è un Eden che c'è uno spazio onirico che c'è uno spazio laterale rispetto alla vita a cui siamo abituati dentro il quale accade appunto accade l'invisibile accade lo straordinario che è materia quasi sempre dei suoi romanzi e quindi con questo ci salutiamo con l'idea che abbiamo letto due romanzi che sono due romanzi di formazione che si specchiano in qualche modo l'uno dell'altro e non avrebbe potuto essere diversamente per due persone che hanno lavorato gomito a gomito per tutta la vita che si sono amati forse odiati forse per tutta la vita e che raccontano proprio due modi completamente diversi di fare letteratura uno ha vinto in qualche modo uno comunque in questi anni è quello che riteniamo essere il classico e un altro fa più fatica diciamo così proprio perché appunto ogni spazio di razionalità fatica di più contro ogni spazio di irrazionalità l'irrazionalità è sempre sempre più potente della ragione grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti